bella a tutti da porkmoz eccoci qua in questa nuova gara ma guardate oggi con chi sono con il grande bizzard bella è un onore via vai 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 prima gli ospiti la prima rampetta è gialla quindi tutta la macchina c'è ragione pure io faccio così non c'è la cara troll e c'è un pezzo giallo vado prima dalla parte gialla io aspetta adesso su 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 aiuto 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 troppo aspetta aspetta dove sei? eh il suino mio sono un po' emozionato per questo no 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 vado 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 è lunga tipo 7 metri questa macchina è lunghissima ci siamo abbiamo un v 12 qua come motore bisogna dosare l'acceleratore occhio qua qui è tutto storto porca vacca vabbè io guardo te aspetta ma il primo checkpoint per caso dov'è che è? non lo so ma è storta quella rampa il primo checkpoint è veramente lontano eh dovrebbe essere là sopra sì 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 nella parte blu se non mi sbaglio ok eccolo qua b allora questa la devo prendere tutta così da questa sì 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 no no due secondi adesso ce la faccio io con queste lunghe cavolo solito pezzettino facile 8500 anni ci impiego ok eccomi capita pure a me però qui non è finita io mi sono fermato là però qua ok credo che sia tranquilla bene ok che è successo? si viva? non l'avevo vista quella aspetta eccomi eccomi ho recuperato olle grandissimo è ancora su? è qui è qui è qui è qui è qui minimale guarda qua che spettacolo igo dove sono bussa? cosa bisogna fare qua? e qua? saltare sì 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 credo che bisogna saltare è staccata quella parte? eeeh si? come caspita fai? mega salto? sì 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 credo di sì allora facciamolo ok per rincorsa turbo vai vai inaugura allora r1 il check dov'è? ah non ti dico dov'è il check eh il check è lontanissimo ah è la a posto vai 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 avanti così cosa c'è poi? no ce n'è due bisogna saltare di nuovo ok due eh anche quello dopo ok e ci siamo qua c'è un aiuto eh può andare anche al massimo buono buono adesso arrivo anch'io non ho toccato nulla io ok al massimo al massimo e tanto ce l'aiuto qui ok e anche da questa allora io prenderei un po' di rincorsa sai? ti aiuti? lo sposto vado vai vai aiuto 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 no 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 sono vivo ho toccato col muro ce la puoi fare con la rincorsa da la? ehm... provo vediamo un attimo insomma una piccola retro tanto non sei ma no ma è vero che la c'è il buco no ma non mi ricordavo più noo dall'inizio una due no alla fine è facile solo che trolla mi ricordavo più sì e poi ci impieghi otto anni perché la macchina è lenta lenta un carro armato va più veloce una due 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 vai qua c'è il check meno male andiamo andiamo se questa è la parte iniziale semplice eh non posso immaginare cosa c'è dopo che sono tutte quelle x? dove? ok di qua? aspetta ma poi sì il check il check sta là vedi dobbiamo fare tutte queste x eh sì 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 giù 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 no va bene ah ma sono staccati ok non è semplice no non è semplice esiste qualcosa da qua per arrivare al blu dici che si riesce no eh eh non lo so però credo che bisogna tagliare tanto la rampa qui prova a girare ora sì bisogna anticipare di tanto e qui scendere dalla parte celeste proprio cioè dalla parte in basso allora subito tagliare ok mi metto qua sotto l'alberello sì sì io ho tagliato tanto no è che accelero troppo questi veicoli allora uno dosa al gas ok ok ma porca ma un veicolo meno bordelloso da usare no? ok eh una bella di 20 volevo io vabbè queste cose qui enormi io non avevo ancora fatto una gara con questi veicoli mi sa ma credo pure io diciotto metri bolle al massimo ci proviamo no 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 troppo veloce aspetta il checkpoint dice che è sulla vostra qua 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 ah da questa l'ho visto prima ah ma è soltanto così con le x sì 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 l'altro check è dritto è dritto è dritto nemmeno lo vedevo vai 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 è incrocio è incrocio ah ognuno ha la sua corsia ok ah così ma qua si potrebbe andare tipo anche mezzi dritti così sì sì e poi e ora io piglio la destra tu la sinistra no non credo credo che sia solo sinistra sai guarda il check è lì il check sta lì è là dietro eh vai a sinistra poi è il ritorno dietro credo che sia un avanti indietro sai ok frena 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 ma belli anche questi ma non mi potevo fermare in un posto peggiore io eh no no non riparte più eh non passo più di qua assoletta no ti volevo dare una mano mi sei infilata la gomma nel finestrino e non saliva più è il problema che io pure mi sono fermato un po' più avanti vai il trucco è esatto non fermarsi mai ok ok ho ripreso la macchina però ce la fai pure te? vai vai ce la faccio anch'io sì 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 vai vai ti seguo ti seguo no 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 sono vivo sono vivo sono vivo ci sei? e dai ho fatto mi sta strano quella che capita sei malato retromarcia no stavo vedendo perché questi cartelli si usano per la retromarcia però secondo te se uno fa così fai un mega si potrebbe ma non lo so facciamo così prova un attimo si potrebbe prende anche il secondo si io ho preso il secondo mi ero andato troppo a sinistra oh mio dio è la stessa cosa mia uno due tre piano 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 mi stavo le vambre è solo che ho visto che andavi velocissimo me l'ho preso alle misure con sto veicolo enorme ok vai 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 lungo sette metri aspetta così così no troppo ok fino al giallo ci sono ok non è così difficile eh aspetta fammi andare avanti no basta prendere il ritmo sì 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 ok due tre rena no nooo aspetta che io mi levo eh ok esatto che arriva adesso eh no 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 ok ti guardo olè olè perfetto perfetto poi dovrebbe essere finito ok e ci siamo piano qua eh quando c'è l'equilibrio che non so se posso andare dritto eh non ho visto il turbo ok così ah perché poi c'è da andare anche sì 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 ma aspetta ti controllo se c'è il turbo se vuoi ti puoi rigirare qua non vedo turbo sai no no andiamo pure il retro io ok 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 un dritto perfetto no ma era abbastanza facile vai vai e ora di qua ok 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 oh cio di nuovo sotto dritti? ah è come prima quindi come sì sì in mezzo avanti e un indietro dobbiamo rifare il pezzo di prima ma la stessa storia da? ah e puoi andare a destra quindi come era la freccia prima hai capito? eh sì 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 qui si fa così poi no prena oh ok vai dietro no troppo no quasi quasi eh l'ho tagliata l'ho tagliata troppo ma se io facessi così guadà no quasi quasi ma secondo me si può eh poi c'è anche l'alberello che secondo me ti aiuta qua puoi prendere la rincorsa? si arrivo park oh mio dio oh mio dio no vabbè no 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 Dai, dai Mamma mia Grandissimo Eh, però adesso Uh, metta Ci sei? Ok, ok, ok Grandissimo Allora, adesso dobbiamo andare a destra Sì, sì Ok E ora per di qua Aspetta, qua va troppo Inaugurate Che non ci siano turbo Fasulli qua Ma non credo, eh, se no si vedevano Non lo so Di solito li nascondono Guardate Sì, sì Parte quando si chiuda Ho guardato il panorama e mi son distratto Ok No, no, no Stavo a cascare pure io Oh, c'è una parte bellissima qua Oh, ci siamo Guarda qua che spettacolo Igo, è una cosa trippata Impressionante È strana questa parte Sì, sì Il check sta giù Ah, ha messo un botto di roba e mezzo Igo Senti, io mi sparo Un bel front flip Oh, no, no, no Non ti spara troppi trick E qua c'è una rampa Ok, ok, ok Perché io non la prendo Sì, sì, no Non ce la fai? Sì, sì, sì Sì, sì, sì Ciao, ciao, ciao Con la scia Con la scia Con la scia Con la scia Ti mi è rapata Andiamo E c'è il traguardo lì Ci sarà l'ultima No, 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 no No Caspita, sei andato No Va benissimo così Sei salito sul Cotto Rosso? Ah, sì Sì, sì, sì Ti ho visto andare In un'altra parte Eh, non l'avevo visto Dove era il traguardo Eh, dai, figa questa qui Con questi macchinoni qua Ci stavano anche i passeggeri dietro Lo champagne A voglia Comunque sia Se vi è piaciuta la gara con Vistard E se volete un altro video Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo al prossimo video Bella Ok Bella, bella E noi ci becchiamo al prossimo video E noi ci becchiamo al prossimo video E noi ci becchiamo al prossimo video